Sì, sì, sto bene. Perché mi ciedi? Chi si tratta? Un incredibile sacrificio. Oggi si tratta 8 ore. È così spazio. Non c'è acqua. Con il piatto avrete anche gelato e da bere esclusivamente Jameson. E una altra? Se non pfeife, tutto si tratta nel mondo. Mi fa male il dente. E io vado dal dentista che me lo toglie. Sì. Sì. Sì.